amici del campionato universitario benvenuti al baggio parche match molto interessante per il trofeo degli atenei tra losca e pergo che stanno entrando adesso sul terreno di gioco gli ordini del signor papa una losca che ha tre punti perché ha vinto la prima con lo sport in bisanzio poi sonora sconfitta con la cipicchia la scorsa settimana oggi affronta il perego che ancora a zero punti non può qualificarsi per i quarti del trofeo degli atenei potrebbe provare a volare a tre sarebbe una clamorosa classifica vulsa se tutte arrivassero tre poi lì bisognerà vedere chi andrà avanti chi rimarrà fuori è tutto molto difficile intanto le squadre che stanno disponendo sul terreno di gioco losca che attaccherà verosimilmente da sinistra a destra dall'altra parte il perego partita sicuramente tirata perché il perego è una squadra tosta per chiunque vediamo cosa succederà squadre già pronte a dare inizio all'ostilità noi diamo un'occhiata alle solite formazioni in realtà le conosciamo già benissimo l'osca con capitano mirabella poi ravano post gardella tre pali gavazzi emeli montorsi maltese simontacchi pergo con aldera cinelli colombi gallone cortellini serra rossi ronchi sista pallone che viene messo fuori poi rossi lotta al limite rossi subisce fallo calcio di punizione per il perego rossi rincorsa corta parte rossi col destro che gol di rossi impietrito gardella è avanti il perego gran botta sul palo del portiere gardella non si è mosso è 1 a 0 perego mirabella controlla il pallone calcia mirabella cortellini respinge al limite rossi il dribbling rossi col mancino gardella la tiene poi simontacchi dentro per mirabella può crossare la mette al centro post anticipato poi il problema è lì post lotta come al solito post post recuper poi andare a calciare tiene il pallone post poi la mette al centro anzi calcia pippo maltese il controllo di pippo in mezzo al campo pallone sul destro calcia maltese palo dopo l'intervento così così e poi post arma letale come al solito sulla rispinta un po maldestra di cortellini è il primo ad arrivare ovviamente e a scagliarle in rete 1 a 1 pareggio lo scattuto da rifare per il perego rossi sul pallone due uomini in barriera parte rossi col destro è un cross il palo clamoroso e poi la palla non entra poi il pallone dentro la conclusione rete di colombi che alla fine lo trova il gol del 2 a 1 rientrato oggi colombi è subito decisivo portare avanti il perego dopo il palo clamoroso di poco fa parte maltese in realtà è uno schiava per favorire ameli che calcia col mancino cortellini ancora post ancora post sempre post un gol identico a quello di poco fa questa volta col mancino prima con il destro la ribatte maltese lunga post fa sponda di testa al centro maravano non c'è quindi al d'era pallone sul mancino calcia al d'era sul fondo la batteravano lunga post post va dentro non è che rimane l'imposte spreca tutto sul buon tocco di mirabella pallone messo fuori quindi rischia di perderla mirabella la conclusione di ronchi salva tutto gardella con un grande intervento rimessa lunga dentro per la rovesciata di colombi mamma mia calcio d'angolo il cross di rossi pallone messo fuori poi ameli e rimane lì buona palla ancora per rossi che calcia e butta giù la traversa sull'ottimo asset di capitano serra poi la conclusione di gavazzi pallone fuori non di molto poi maltese la stava combinando enorme gardella pronto a partire mirabella il suo cross arriva al centro la prende di testa poi ancora post non ci arriva la presa gavazzi di testa bene cortellini dalla bandierina ronchi il cross sul secondo palo si coordina al volo e segna un gol pazzesco al volo rossi 3 a 2 per il perego che vince incredibilmente all'ultimo secondo con la botta al volo di rossi incredibile 3 a 2 perego parte il cross sul secondo palo pallone messo fuori poi la conclusione di ameli sul fondo times up vince il perego una sfida infinita incredibile 3 a 2 vittoria fondamentale perché il perego vola quota 3 punti rimane ferma tra e anche la losca bisognerà vedere cosa succederà nell'ultimo match tra ac picchia e sport in bisanzio potrebbe potrà esserci un clamoroso biscotto volendo vedremo quello che succederà super spot